no svegliate ma in realtà non è di tecnicamente vabbè ho capito però mi piace non è vantini spaggis ma ci sono vantini non è ma sei pazzo non fa che forse a chi vuoi tre di notte facendo porta no perché sento sto ragazzino qua che ha fatto torino scorso beccato aspetta ma ma tu intendi quello che è oggi stavamo giocando un altro amica io mi sono impossibile stai partito io ci sento veramente assurda poi lo vuoi trovare un ragazzino che ragazzino ci ti permette di chiamare questo vuoi chiamare uomo forca puttana ragazzina oh questo ma questo è venuto così si è formato ma questo non poto vabbè davvero mi ha fatto ridere si è venuto lì la banana in faccia e poi mi ha guardato e poi è morto con un coglione sì ma secondo me quando fanno così sono dei bot no 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 mi ha fatto ridere perché si è incantato proprio nello spigo e ce l'ha fermo così bambino ragazzo qua ci sono i schildini ah arriva bambino qua c'è uno schildone no ci sono a terra uno in sta zona infatti però il bambino non è peggio c'è non hai quanto ho sentito non hai quanto ho sentito i nini i bimbi jones ci ho sentito non hai quanto ho sentito ma tu volevo dire ma tu ex giochi da mouse o con joystick giochi tu l'avevo chiesto al gamer l'avevo chiesto io ah no ti dico a ah no ex secondo me giocai mouse e tastiera perchè oggi c'è più di box c'è più di spam di tasti c'è forte di solito è sempre così però non è detto vado di tastiera vedi 60 frame allora eh ma con tastiera c'è una mila pazzesca ok pochane si ma dove cazzo vai boh tazzo ma ci vuole un tavolo ci sono botte quelli ma fermati basta ma quella cosa che ho ucciso prima era un'altra squadra di botte ma tu ti botte uno qua forse vado vai sfida a roba che vieni fiofio e non gioca tu non dici che vieni in giocatore tanto sta modalità forse no 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 tra poco mi sa che perde la vista ooo iniziante sta in barrio no nel senso nel senso mi scechino a che no o chi è una cecchina viva quest'ora che sembra che sei drogato ma chi è una cecchina eh ma dai tu gang eh no 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 non ero io ma io ero fermo non l'ho manca preso ma scusate ero io ma che è fatto eh ma io ero fermo eh ma il volto non hai cecchina non l'ho manca preso non l'ho manca preso ah lo scattore è uno è il tuo stile prendine uno no io ce l'ho già ah ce l'hai quella una ce l'ho presa quando fu la femminile quando è uscito nella prima volta vabbè ovvio eeeh mi piace tanto guarda quello la quello tipo a stecca cos'è quello la dello zuccher cos'era quello era molto raro quale? non mi ricordo come tipo quello di natale tipo a stecca ma che il minti eh eh ma il minti è la lista non si può più avere quelli eh si e quelli potrei averlo sfruttato a metto un codice quindi vieno comprando alcune cose mi ricordo dopo che le varie ho trovato uno lì vabbè ma al minti la c'era pochissima gente stella bianca stella bianca stella bianca no c'è piccola c'è gente a fare qualche mano uno è stupendo dentro la carta la cazza di skin è la rarissima ma l'hanno rimessa nello shop cazzo l'ho massacrato eh un colpo un shield è scappato via dove c'è? qua ce ne sono gli altri eh dove c'è andato? eeeh no sta andando via dimmelo prima no non l'hai visto? si va bene questo mi arriva no dillo non l'avevo visto l'ho fatto l'ho fatto attendo c'è l'altro che è la cazzo c'è il cecchino quel pezzo di merda vaffanculo sono morto eeeh ma l'ho massacrato anche a me raga foto a penne di nascosto si è morto? no eh foto a penne di nascosto si arriva via raga aaaaaaah aaaaaaah minchia wolverine no era morto vado aaaaaaah l'ho battuto in volo madonna finchè fosse finchè fosse oh ma non lo colpisce aaaaaaah muori quel pezzo ah è morto ci ha trovato ma sono tre squadre quattro squadre come io ve lo dico c'è il bordello eh attenti qua che venga dove cazzo vai papà da te c'è uno eeeh sta parlando a ammazzare a quello è uno shield c'è un peccino forse quello sta prendendo la sua roba di nuovo ha dato una piccina la sua roba eh scappa te qua stanno qua ma lo so quello l'ha ammazzarato aaaah l'hanno ucciso eh provate che sono mica non ho shield non ho shield ma dacci la mano spara quattro dove cazzo sei ma io ci sto sparando venga marca puttata ma non a quelli dove non a quelli non a chi scusa ci sono due e li sto sparando a quelli sai che pare che sto sparando scusa e vedi me hanno col petto ma infida mi pioggia è uno è bianco è bianco è bianco è bianchissimo è un colpo un colpo è quel pezzo di merda l'ho battuto ah l'ho battuto Davvero? Con l'altra parte No, no, c'è più di cancro Oh... cazzo Ha quella? Dai bianco? Noo, dai dietro. Cazzo no Non le colpisco mai Ma quella fuori lì? Ma che mira c'ha quello, raga? Noo eh, che arrivo Ma la mercia ha putto, vieni qua c'era una passata ragazzi dove si è tirato si è tirato passata ma sicuramente un po si dice l'ammazzo è tanto che fa un certo è una in questa collinetta arriva uno qua in un caso me ne ho capito dei coglioni micrò una quel cazzo di deadbolt le prende senza shield perchè c'è molto assurdo patsh io quel cazzo di deadbolt le prenderò qua sotto oh ah lani fatta dietro fatto eh bravo ah muori oh lani lani fatta dietro l'ho visto no dai dietro dietro ma pensavo che era l'altro aspetta cazzo c'era uno qua è bello che andrà che mi diceva entra dentro non c'è un cazzo c'è un cazzo questi passi uno qua se l'avete sopra ce l'avete c'è un altro c'è un altro uno è scappato quello viene lì da tre ore che viene sempre là si prende sempre la roba si prende l'ho ucciso due volte due volte ehm unterson medico non vuol vedere che sta scappando è bianchissimo bianchissimo sull'albero no no mi sarà attaccato un po' vabbè eh può essere sempre no ho laggato no c'è cosa venga va al capo te c'è uno qua ma vedi i passi ma è sopra l'albero è sul lato 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 io non riesco a portare un altro no vedi sta mirando da dietro copri 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 oh grazie oh ragazzi abbiamo uno dietro qua due qua dentro ci arriva giunta a tutte le parde stanno pure a non puoi respirare da parte con la p***a non postarci naga porca p***a no 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 c'è qua di respirare no no c'è questa partita bucati ne avete o no segno 4 vabbè non riesco a prendere il santo è ancora un altro è ancora un altro è ancora un altro andiamo a dire forse la mia ho metto a dire qua vado ci ho capito pancia no ma non non è ancora un altro che si può fare il nonno c'è uno scudo che vi serve? andate fate lo scudo no? andate si l'ho presa l'ho presa andate andalo sopra eh portate il suo scudone anche andate qui gli scudini iiii porca no vabbè se no l'ho muciato nell'esco ma vabbè l'ho fatto l'ho fatto ma c***a io l'ho salvato l'ho fatto morire non l'ha preso una singola volta no quella lo c**o però no cosa sto c***o di c***o Anderò più io a questo video, sarà il pool di merda Ma era qua eh Qua Bianco eh Non lo so, l'ho sbiancato di brutto vedi Taro, taro L'ho fatto io, non ho capito come ha fatto Ma c'è un altro kit anche per me Eh, più è la macchinetta, la macchinetta Sì, tieni Aspetta Grazie Non c'è un pompa verde Perché c'è ancora il pompa bianco La 3, hai tutta la partita che c'è Eh, lo so qua sopra Eh no, ma quello non c'è Eh no, se lo prendiamo Due Ma Ho fatto uno eh Vedete pure il mezzo morto Due, due erano eh Vedete pure il mezzo morto Ahhhh Ah, c'è il carica bianco spettano C'è uno qua sopra eh Stai a passare vedere pure lì in fondo No, non lo so Sì, sì Cazzo, dove c'è l'invito? No, ragazzi No, c'è un po' il team lì Eh, è ancora qua, stiamo in mezzo No, ragazzi No, ragazzi No, c'è anche da un po' ragazzi Oh, 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 c'è anche da un po' ragazzi Cazzo, la macchinetta l'avete rotta, raga porco Treatatelo O, 2 Loro l'hanno tolte Eh, no, sì Farai, Farai Oh, c'è un po' Si faceva il kit lì così Eh, vado a prendermi gli scudoli Eh, vado a prendermi i scudoli Eh, io vado a prendermi gli scudoli C'è altra gente, eh T'era no Ponte due Ma, il kit Naa, sì Ah, se l'è fatto basta No, da dove? Oh, no Cazzo però dovrebbe tornare più amico lì, adesso c'è qualcosa a livello di... eh ci dobbiamo andare c'è una p*****a figlia di oscurini madonna che rischio c'è qualcosa a livello di... anche facciamo pure lo spawn d'oro, perché quello p*****o ma bugatti non ne avete più no 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 questo bugatti è comunque libero qua eh però... si per esempio i logram per l'arte buono shield quello da sopra eh ma tu... ah l'ho battuto l'ho battuto venga hai capito che cazzo faccio fare? ah vai 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 è qua... è qua eh no non posso scappare questo no è scappato è terra e noi lo figgiamo dai lì in mezzo bianco bianco minchia bisognerebbe io ti faccio 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 c'è altra gente qua eh ce la fai andro? no mi sei piaccato l'arma dai però che sfiga che c'è porca pote arrivo eh no perchè non mi sparava? io non capisco perchè a volte non mi sparava il pompa gli altri sono qua di front eh nooo nooo che cazzo raga ho trovato ho trovato una pistola di mira ho trovato una pistola di mira ho la massa grave la massa grave raga c'è quello c'è quello di strisciare da voi raga quel cazzo di albero eh sì lo trovo l'altro è benissimo l'ho scelto quello raga cazzo di albero l'ho scelto da quel cazzo l'ho scelto da quel cazzo l'ho scelto da quel cazzo a terra a terra a terra e qua bianco bianchissimo 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 ah c'è uno dietro oh no raga non è uno dietro forza di una eva tera 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 questo ah ah ma vera cici ma che partito mamma mia pure questa oh che inferno pure questa ciao 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 ciao